Valido. In seconda posizione Pino B, in terza rimane Principessa Rum. Tanto un concorrente in errore, ovvero Paris-Jean-Pet, che viene squalificata. 33 agli ultimi 400 metri. Cavalline, fila indiana, con l'avanguardia sempre effetto NSB, in seconda posizione rimane Pino B, in terza Principessa Rum, poi Platinum Plus, Pitch Plant e Passport to Grip, nell'ordine. Si esce dalla curva con Petone SB, sempre a precedere Pino B. Fila indiana, capeggiata da Petone SB, in avanti a Pino B, in terza Principessa Rum, poi Platinum Plus su Pitch Plant e Passport to Grip, dopo il secondo quarto in 31,3. Non ci sono variazioni. Petone SB, avanti a Pino B, che accenna a fare un po' la mezzaruota a largo. Petone SB, Pino B, Principessa Rum, ora sposta come lini Pitch Plant, il favorito. L'azione è completata in 31, all'avanguardia sempre Petone SB, in seconda Pino B, in terza Principessa Rum, poi Pitch Plant e Passport to Grip, sempre all'avanguardia Petone SB, su Pino B e Principessa Rum, poi Pitch Plant, che al momento non riesce a pervenire sui primi, lungo l'arco della curva conclusiva, Petone SB in vantaggio su Pino B, sbaglia Pitch Plant. 31 per la penultima parazione, adesso indirittura, con Petone SB su Pino B, Petone SB, Pino B, Principessa Rum, Petone SB continua avanti a Pino B, che si sta avvicinando, poi Principessa Rum, Pino B che attacca, Pino B che prova su Petone, che si dipende sul traguardo. In terza posizione, Principessa Rum, 33, quarto conclusivo, 2,36,2 il tempo totale, vendi al chilometro 1,15,9, Petone SB, totalizzatore 3,32, la copiata 4,1, paga 1,94, passaggio al traguardo per la trio, 4,1,3, non rientrava.